adesso vi parliamo chiaramente perché abbiamo capito che non riusciremo a farlo stiamo cercando di registrare un video in cui vorremmo raccontarvi cosa vorremmo fare su Logical Garden ovviamente tutti i nostri progetti, i nostri iscritti e tutto quanto non usciranno mai quindi faremo un video così metterà delle minchiate che facciamo ora e che abbiamo fatto per farvi capire cosa faremo se l'avete capito bene, se non l'avete capito continuate a seguirci grazie, ciao! ti piace? perfetto, wow, a posto, jingle 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 ma in totale sto canale lo apriamo allora? ah per me era già sì eh ma no no, è solo da sapere perché io sono entusiasta della cosa eh però pensavo, cosa avremmo mai da condividere di interessante, di bello che possa anche piacere alla gente? ci piace, adesso faccio degli esempi un po' a caso eh ballare, abbiamo anche preso lezioni, ci piace cantare, adoriamo fare le imitazioni poi un sacco di altre cose da potremmo aprire delle rubrichette, tutte diverse, con le cose che sappiamo fare e rispondere alle varie domande richieste degli utenti di youtube e il tutto gestito in maniera seria ed esauriente come un po' nella nostra indole esatto, a questo punto mi hai convinta bene, bene ma che dolce poesia ah che vergogna ti saluto croce santa mi faccio il cantagallo sono felice nooo no, è no nooo hola e la famiglia salve lei come sta? vorrei sei uova è troppo caro come fai a non saperla? vabbè allora te lo regalo allora te lo regalo più dolce di un creme caramel quando le cose non vanno per il verso giusto è tristezza che prende il controllo questa è tristezza con un tocco di cura e un cuore gentile tristezza entra in azione per lasciarti ho detto tristezza entra in azione tristezza oh tristezza ila stavo pensando che potremmo raccontare alle persone dei nostri viaggi tipo quello a disneyland ne abbiamo fatti due un terzo lo faremo altri viaggi li abbiamo fatti e ne faremo quindi ci sta no? si l'idea mi piace molto l'unico dubbio che mi viene è che non siamo particolarmente brave a fare le vlogger con la telecamera come no? tutte le cose però possiamo imparare organizzarci ci sappiamo organizzare no? si tanto con le lingue ce la caviamo e poi siamo anche persone che sanno raccontare cose interessanti si poi registriamo qualcosa impareremo a fare le vlogger si mi piace l'idea molto ci sta? si si queste sono le tipiche cose qua non si fa felice ho dei problemi con le gambe non so dove metterla detto prima si faceva così? esatto esatto te l'ho detto che col cucinerario facile ok comunque questo è l'albergo cioè o meglio la stanza mi sono piaciuta molto quella è un idiota che sta cercando di fare la copriola ma perchè non passano nello squalo nelle razze mentre non facciamo lo mio? squalo fuviii dai fuviii buongior bambini siamo a Disneyland è una bugia no secondo me non so pure in orecchio per questo va su va su ma non va su da nessuna parte come no siamo in cima e va bene ma non perchè l'hai detto tu si secondo me si ok adesso forse sono su e se vado giù? vai come ti porto c'è la vasca da bagno ed è pulitissimo c'è il telefono in bagno ilà oh guarda cosa ho trovato cos'è? cos'è sta roba? è sabbia del gatto Ilaria ricordati che io ho un passato da chimico giusto no vabbè io ho appena avuto un'idea oddio adesso cosa fa con gli occhiali facciamo dei video di esperimenti? va bene facciamo dei video con degli esperimenti dovrei avere anche un po' di materiale la sabbia del gatto la sabbia del gatto niente sono solo un ammasso di cosa potresti usare nell'altra colla vinilica adesso per favore con la carta non lanciarmela al top che schifo mamma mia si vede che non hai mai cucinato eh 4 3 2 1 open però se mi dai il manico puoi girare tu si stacca no? si si è attaccato gira che rimbambita si è attaccato un secondo adesso risolvo eh certo ascolta io sto usando la sinistra adesso tenteremo l'accensione di questo coso di tipo dieci anni fa dovrebbe fare tipo stellina tipo brucieremo qualcosa ahhh 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 ma perchè fa tipo bello funziona molto ma sei sicura? ma brucialo da sotto dove è? lì? ahhh ahhh brucia ma non è vero oddio aiuto ma non è vero che brucia adoro sui miei peli bruciacchiati un po' meno ok ok finito bello guardate questo cane come viene maltrattato è la padrona che viene maltrattata sì effettivamente un po' come tutti i miei esatto ma a proposito Ila potremmo però fare dei video inerenti agli animali voglio dire tu ne hai ne accaterba io ho questo mostro ratto poi andiamo sempre a vedere tutti gli animaletti nei parchi esatto tutti i parchi che vi visitiamo in un anno ci sta? no? no? no tu te ne dici te? approvato lei orecchio sicuro? lo chiamarono monorecchio preparazione al bagno del cane acqua e shampoo per pelli sensibili una tazza del bicarbonato un asciugamano un posto dove asciugare il cane la spazzola le forbici le salviette e ora il cane che odore di mucca ci sono le mucche? non che io sappia ci sono le pecore? non che io sappia c'è una capra è una capra filmala c'è una capra ci sono delle capre andiamo a vedere le capre non esticarle non esticarle che già ma veramente ci sono delicata oddio pensi che voglio andare a vedere la capetta ma sono una capra ma quello è il pastore è per il rumore ma allora non posso andare in giro a fare versi c'è una capra è una capra è una capra sì è una capra è una capra è una capra che è una capra io lo so che sono le tre di notte ma io voglio utilizzare il nostro canale per parlare delle ingiustizie che ci sono ogni giorno nel mondo non è possibile che nessuno faccia niente che nessuno dica niente noi dobbiamo fare qualcosa dobbiamo parlare dei problemi di questo pianeta delle persone di tutto il mondo e vedi di essere d'accordo perché io lo voglio fare, ok? ok mi ha appena impedito di comprarmi una tiara ma vieni te, fai che cent'anni vabbè ma io la mettevo sulla disneyland c'era una bambina vestita da Elsa di Frozen e io non ho potuto comprarmi la mia tiara no, noi sembreremo le orecchie e tu farai il topo ecco, sempre l'uomo ciao bambini vorrei fare un appello che il Logical Garden è contraria alle bocce per i pesci ok? assolutamente sì tu sei consapevole che i tuoi padroni raccolgono sempre la cacca, vero? quando ti portano in giro il Logical Garden supporta la raccolta della cacca del cane con il sacchettino e soprattutto non è il cane il problema se il cane è sporca è il padrone che è un cretino allora li ho attaccato con il video con l'argomento viaggi questa risa gli ho uscito il latte il tè il buco le c***o gli ho attaccato un cosa nel chimico sto pensando a come montare guardetti che riusciamo a fare una cena dovremmo mettere su un video così secondo me abbiamo più follower che sta qua a spiegare che c***o vogliamo fare io ce l'avevo fatto al naso dico sei tu il perito chimico secondo me cosa stiamo qua a spiegare cosa vogliamo fare ci è basta che ci guardano ha già capito tutto di quello che vogliamo fare minchia esatto se tu no facciamo una cosa seria tipo io che ti dico come se fossimo capace no il c***o dirige la verità lo sai che non ce la faremo mai ma ci proviamo ciao sono stata abbandonata qui in questa stanza desolata mi mette l'ansia tutta questa motocamera prova prova ti sto fregando macchina fotografica non devi inquadrarmi la faccia non devi inquadrarmi la faccia papapera non me l'hai più inquadrata paraparapapà visto che io mi muovo e tu non mi stai dietro parapapà notizzerà non mi mette l'anima